Ebbene sì, è arrivato il momento. Tra meno di una settimana, Windows 11 24 H2 verrà rilasciato per tutti i PC con Windows 10 e Windows 11. Sì, non solo per i Copilot Plus PC. Sarà tuttavia necessario fare prima un controllo per verificare che la nostra macchina sia compatibile. E nel caso in cui non lo fosse, non ti preoccupare, te lo spiego io. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Se devo dirtela tutta in estrema franchezza, io personalmente non ci credo. Ho aspettato fino all'ultimo momento per vedere se arrivava una smentita ufficiale da Microsoft che, per quello che sono riuscito a leggere, non è assolutamente arrivata. Ma il mio parere conta poco, perché in realtà, come vedremo a breve, tutte quante le principali riviste di settore nazionali ed internazionali sono graniticamente allineate e coperte nell'affermare che, con il prossimo Patch Tuesday dell'8 ottobre, Windows 11 24 H2 sarà rilasciato per tutti i PC con Windows 11 e anche per quelli con Windows 10. Ma allora da dove provengono i miei dubbi? Dal fatto che nel mio piccolo ritengo di conoscere Microsoft e so che, prima di rilasciare una major release come questa, fa un battaggio pubblicitario decisamente diverso. Anche se devo ammettere che questo può essere dovuto alle recenti polemiche che hanno preceduto l'uscita di questa versione e che, se segui assiduamente il canale, conosci bene. Ma adesso non perdiamo altro tempo e tuffiamoci a capofitto nell'argomento del giorno, ma non prima di aver soddisfatto le divinità del tubo con il nostro rituale apotropaico. Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Ebbene sì, come ben sappiamo tutti quanti, Windows 11 24 H2 si è fatto attendere come la pizza a domicilio quando c'hai fame. Ma a partire dallo scorso 17 settembre ho iniziato a leggere sempre più insistentemente questa notizia, partendo proprio da Pure Infotech, che, a quanto mi consta, l'ha pubblicato per primo. La notizia dice che Windows 11 24 H2 dovrebbe essere rilasciata per l'appunto l'8 ottobre 2024 e che, in realtà, la preview sarebbe arrivata a settembre, cosa che si è effettivamente verificata e la versione definitiva sarebbe arrivata proprio ad ottobre. Le hanno fatto subito eco altre autorevolissime riviste internazionali di settore, come la stessa PC World, che ci informa nella fattispecie che il grande aggiornamento annuale per Windows 11 dovrebbe raggiungere i nostri PC nel mese di ottobre. E infatti, se scendiamo un pochino più in basso, è anche più specifico, dato che ci dice che sembra che Microsoft si stia preparando a mandare il prossimo aggiornamento delle funzionalità di Windows, anche noto come Windows 11 24 H2, sui nostri PC, proprio a cominciare dal prossimo mese. Ed essendo questo un articolo di settembre, è chiaro che il mese incriminato è proprio quello di ottobre. La notizia continua a rimbalzare su tutte quante le altre testate principali, come la stessa blasonatissima Bleeping Computer, che ci informa nel mese di settembre che Microsoft potrebbe aver rivelato per errore che Windows 11 24 H2 sarebbe arrivata questo mese e allude alla preview di settembre che effettivamente c'è stata, specificando che poi successivamente con il Patch Tuesday di ottobre sarebbe arrivata la versione definitiva su tutti quanti gli altri computer. E passando sul fronte italiano, come vedi, la notizia viene rimbalzata paro paro anche dalle nostre testate. Qui nell'esempio leggiamo Hardware Upgrade, ma attenzione, perché in realtà non è tutto quanto rose e fiori e abbiamo due grossi problemi con cui dobbiamo confrontarci. Il primo riguarda la cessazione del supporto a Windows 11 nella sua versione 22 H2, che avverrà, come dichiarato già da tempo sul sito Microsoft casualmente, proprio nella stessa data, ovvero l'8 di ottobre 2024. Che cosa comporta questa fine del supporto? Che Windows 11 22 H2 non riceverà più gli aggiornamenti di sicurezza e, come sono solito dire, da questo punto di vista diventerà letteralmente un colabrodo preda di virus, malware e malintenzionati. Ovviamente la soluzione che io ti consiglio è a questo punto di passare almeno a Windows 11 23 H2 entro l'8 di ottobre, oppure, se ci riesci, a Windows 11 24 H2. Ma vediamo anche questo aspetto nel dettaglio. Ebbene sì, non tutte le macchine, anche quelle che montano già Windows 11, saranno compatibili con la nuova 24 H2. Ma come fare ad effettuare un controllo e capire se la nostra macchina è compatibile o meno? Te lo faccio vedere subito aiutandomi con questo articolo di The Windows Club, che ce lo spiega nei dettagli. Ma siccome l'articolo è un pochino complesso, te lo faccio vedere io in maniera decisamente più semplice. Quello che dobbiamo fare è andare ad aprire l'editor del registro di sistema. Per farlo ci portiamo qui in basso, dove hai la lente o la barra di ricerca, ci clicchiamo su e andiamo a digitare Regedit. Una volta fatto vedrai che ti comparirà l'icona dell'editor di registro di sistema. Andiamo a farci clic su per aprirlo e confermiamo con sì di voler apportare modifiche al nostro dispositivo, anche se in realtà di modifiche non ne dobbiamo apportare proprio nessuna. A questo punto quello che devi fare è andare qui sotto nella descrizione di questo video dove troverai una stringa, una stringa esattamente identica a quella che io per mia comodità ho messo all'interno di questo file. La selezionerai tutta quanta con il mouse come ho fatto io, cliccherai con il pulsante destro per copiarla, dopodiché andrai ad incollarla in questa riga qui in alto. Attenzione perché se per caso avrai selezionato qualche altra chiave di registro la riga potrebbe essere diversa a seconda del punto su cui è stato fatto clic. Quindi tu non ti preoccupare, vai comunque a selezionare tutto il contenuto e incolla la stringa che abbiamo copiato in precedenza. A questo punto premi invio e ti ritroverai nella chiave di registro che ci interessa. La prima cosa che vorremmo verificare sarà questa voce qui sul lato destro, quella che si chiama DestBuildNum. Quello che ci interessa è che il suo valore sia uguale a 22621 e questo per un motivo molto ben preciso, ovvero che 22621 è il numero di build di Windows 11 24 H2 che sarà infatti la prossima build ad essere installata con l'aggiornamento successivo su questo sistema. Se il numero è uguale a 22621 tutto bene. Se il numero invece fosse diverso molto probabilmente avremo un problema. La conferma che vada tutto bene oppure che abbiamo un problema ci viene data da queste due voci. La prima si chiama UPGEX, la seconda si chiama UPGEXU. In entrambi i casi il valore deve essere green, ovvero verde. Si tratta di un flag che ci dice che sostanzialmente va tutto bene. Se il risultato del valore è green vuol dire che abbiamo bandiera verde all'installazione di Windows 11 24 H2. Nel caso in cui invece la flag fosse rossa avremo un risultato che si chiama appunto red e che significa che abbiamo effettivamente difficoltà ad installare questa build sul nostro sistema. E sarà proprio l'ultima voce che ci interessa, ovvero quella che si chiama red reason, a dirci se c'è qualche problema effettivo e quale è questo problema per cui non possiamo installare la 24 H2 sul nostro sistema. Il risultato come in questo caso è non, ovvero nessuno, potremo essere sicuri al 100% che non avremo alcuna difficoltà ad installare Windows 11 24 H2. Nel caso in cui leggessimo qualcosa avremo modo sicuramente di correre ai ripari. E nel caso in cui non fosse possibile correre ai ripari come facciamo? E ti pare che ti lascio da solo? Abbiamo già visto in un video precedente che ti lascio linkato qui in alto per tua comodità questo sito qui che ci consente di creare un'installazione modificata di Windows 11 e che sappiamo funzionare anche con la 24 H2 nella quale potremo eliminare i requisiti richiesti dal sistema per l'installazione effettuandola anche su PC non compatibili. Il momento della verità si avvicina, vedrà la luce l'8 di ottobre con il Patch Tuesday questa nuova release di Windows ai posteri l'ardua sentenza. Io la mia scommessa l'ho fatta, ma veniamo ai ringraziamenti del giorno perché quest'oggi ce n'è uno fondamentale, assolutamente indimenticabile, e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento. Alla prossima!